Timeline è una funzionalità di produttività in Windows 10 che permette di raccogliere e riprendere attività precedenti da qualsiasi computer collegato al proprio account Microsoft. Timeline è abilitata come impostazione predefinita, ma potrebbe essere necessario attivarla manualmente. Selezionare Avvia e Digitare attività e quindi selezionare Impostazione privacy registro attività dai risultati. Selezionare consenti a Windows di raccogliere le mie attività da questo PC per abilitare la funzione Timeline. Selezionare consenti a Windows di sincronizzare le mie attività da questo PC con il cloud per sincronizzare le attività tra i computer collegati allo stesso account Microsoft. Selezionare l'icona Visualizzazione attività o premere contemporaneamente i tasti Windows e Tab per accedere a Timeline. Per computer connessi a più monitor, Timeline visualizza le finestre aperte per ogni monitor. Riprendi attività correnti o precedenti dalla finestra Timeline nelle voci Ora, Stamattina, Ieri e Data. Scorrere l'elenco per trovare le attività precedenti. Per visualizzare le attività di un giorno specifico, selezionare Visualizza tutte le attività. Per trovare rapidamente le attività senza cercare manualmente, utilizzare Ricerca Timeline. Fare clic sull'icona Ricerca Timeline, inserire una parola chiave o una frase, quindi premere Invio. Per rimuovere attività non più necessarie, fare clic con il tasto destro del mouse sull'attività e selezionare Chiudi, Rimuovi o Cancella. Selezionare un'attività per riprendere a lavorare dove si è interrotto l'ultima volta. Quindi selezionare casa senza cercare di rotondare senza cercare sul re